Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale, io sono Krix, buona vigilia di Natale a tutti boys, come state? Spero tutto bene? Fatemi sapere nei commenti come state passando questa giornata, oggi ragazzi come ogni anno in questo periodo cerco di postarvi insomma quanti più video possibili in un giorno Quindi ragazzi oggi come primo video come avete letto dal titolo vi porto finalmente un nuovo glitch per scambiare auto che abbiamo fatto anche in live praticamente stanotte Quindi ragazzi se non avete visto la live recuperatela subito e sostanzialmente insomma abbiamo portato auto moddate online che poi appunto abbiamo depositato con il glitch che vi spiegherò oggi Quindi signori mi raccomando occhi ed orecchie ben aperte perché il glitch è abbastanza semplice e come avete letto sempre dal titolo il primo step per buggarsi si fa in solo Inoltre al solito vi ricordo che questi tipi di glitch possono essere fatti in modo massivo, questo significa ragazzi che una volta che andrete a fare il primo step per baggarvi potrete ricevere appunto tutti i veicoli che volete come quando volete per tutto il tempo che volete Quindi massivo sta a significare che dovrete fare una prima parte per baggarvi e poi appunto la seconda parte sarà quella che vi permetterà di ricevere veicoli in modo massivo Molto spesso vi potrà capitare che voi fate il primo step in solo nel modo giusto ma il glitch non funziona quindi vi spiegherò ragazzi in questo video con un video completo appunto tutto quello che dovete sapere a riguardo di questo glitch Nel corso della giornata ragazzi usciranno altri video come anche ci sarà una live verso il pomeriggio tardi quindi mi raccomando ragazzi sintonizzatevi tutti quanti Detto questo bando alle ciance passiamo subito alla spiegazione ma prima ovviamente signori vi invito a lasciare il vostro mitico bel polishonson sin su a questo video che a me fa veramente tanto piacere Ti mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti e niente signori vediamo oggi quanti video riesco a postare quindi mi raccomando un bel mi piace da parte vostra di supporto per me è gradito Parlando dei requisiti ragazzi tutti i requisiti al solito ve li lascerò nella descrizione facciamo che vi taglio direttamente le parti scritte vi metto i requisiti nei primi rig in descrizione così insomma risparmiamo tempo sia io che voi Quindi mi raccomando ragazzi assicuratevi di avere tutti i requisiti se ce li avete allora potete fare questo glitch Detto questo passiamo subito alla spiegazione la prima cosa da fare sarà andare in una sessione di gt online solo ad invito e una volta che sarete all'interno dovrete semplicemente invitare il vostro amico tramite il menu poi amici Trovate il nome del vostro amico ci cliccate con x sul suo nome e fatto questo andate su spedisci invito alla partita questo passaggio non ve l'ho mostrato comunque ve lo dico a voce Quindi entrate online ragazzi e invitate il vostro amico tramite appunto il menu di pausa poi amici e poi fate spedisci invito alla partita A questo punto ragazzi il vostro amico riceverà l'invito tramite il psn e dovrà quindi entrare tramite questo invito Fatto questo entrerà nella sessione con voi e quello che dovrà fare gli basterà semplicemente aprire una missione del titano tramite appunto il menu di pausa e poi dovrà andare su attività Avvio attività create da roxar missioni un lavoro da titano e mi raccomando molto importante dovrà ragazzi tenere la sala d'attesa chiusa La schermata della sala d'attesa la potrà trovare una volta aver confermato le impostazioni della missione quindi mi raccomando ragazzi il vostro amico deve entrare nella sessione con voi Deve aprire la missione del titano con sala d'attesa chiusa mi raccomando è molto importante A questo punto ragazzi potete iniziare il glitch vi avrò messo sicuramente anche la clip dell'amico Vi consiglio per fare il primo step di utilizzare una moto o comunque un veicolo a due ruote Io infatti ragazzi ho utilizzato il Sanchez mi ha funzionato però se non avete moto va benissimo uguale anche insomma utilizzare dei veicoli Quindi una volta fatto ciò dovrete praticamente ragazzi recarvi all'autoraduno di Los Santos e quando sarete ai piedi dell'autoraduno semplicemente chiamate il meccanico E fatevi richiedere un veicolo qualsiasi che attenzione non deve essere del nightclub oppure dell'arena Quindi ragazzi un veicolo qualsiasi che non si trova in queste proprietà Oppure potete fare come me nel video ovvero diventate presidenti e richiedete appunto ragazzi una moto Anche perché vi ripeto a me con le moto ha funzionato meglio quindi magari vi consiglio di usarle anche a voi Quando il veicolo vi sarà stato consegnato entrate ragazzi nell'autoraduno A questo punto signori inizia il glitch quindi quello che dovrete fare quando sarete dentro l'autoraduno sarà ritornare sopra il veicolo E dovrete premere i seguenti tasti ovvero quadrato e poi due volte x quindi quadrato per mostrare le opzioni del veicolo E due volte x per entrare nell'area di prova con altri giocatori come state vedendo in questo momento dal video Quindi a questo punto ragazzi lasciate caricare al gioco che vi porta nell'area di prova Quando sarete nell'area di prova ragazzi qui inizia lo step per buggarsi quindi mi raccomando ascoltatemi bene Come potete vedere se voi tenete premuto il tasto triangolo in basso a destra nello schermo vi darà diciamo una barra con scritto esci dall'area di prova Una roba del genere quindi questa barra ragazzi ci servirà a fare il primo step Quello che dovrete fare sostanzialmente sarà tenere premuto il tasto triangolo e il tasto option E rilasciare praticamente ragazzi il tasto option un attimo prima che diciamo il gioco cambia la schermata Come state vedendo dal video dovrete ragazzi praticamente fare questo step Dovrete praticamente tenere premuto il tasto triangolo insieme al tasto option e praticamente ragazzi rilasciare un attimo prima il tasto option Prima che appunto il gioco vi dia la schermata per uscire dall'area di prova Il risultato che dovrete ottenere ragazzi sarà avere questa schermata come state vedendo dal video dove appunto vedete le macchine dell'autoraduno Con il menu di pausa aperto Dovrete fare un po' di pratica però dopo qualche tentativo vi riuscirà sicuramente Quindi quando vi troverete ragazzi a questo punto dovrete semplicemente andare nella mappa Quindi cliccare X per entrare nella mappa o comunque il tasto corrispondente se siete su Xbox E dovrete praticamente ragazzi premere il touchpad se siete su Playstation altrimenti il tasto select su Xbox E come potete vedere il gioco vi andrà a cambiare diciamo la visuale della mappa Ed è quello che vi servirà Come vedete premendo il tasto touchpad mi cambia la visuale e mi dà appunto ragazzi la mappa Quindi quello che dovrete fare adesso con la mappa aperta sarà semplicemente avviare una di queste attività blu che appunto potete trovare nella mappa Vi ricordo che dovrete attivarle per attivarle dovrete attivarle fuori da una proprietà tramite il menu interazione Poi nasconde opzioni attività e mettere tutto su personalizza e tutte le attività su mostra In questo modo avrete lo stesso risultato che ho io nel video con appunto queste attività Muovete il cursore sopra l'attività aspettate un attimo e come vedete il gioco vi darà la possibilità di avviare questa missione tramite il menu di pausa con il tasto quadrato Quindi premete il tasto quadrato e poi X per confermare di voler avviare l'attività A questo punto ragazzi non toccate niente in questa schermata dove vi dice entra oppure esci dall'autoraduno Non toccate niente lasciate semplicemente caricare la sessione Quando la missione ragazzi avrà caricato a questo punto semplicemente uscite e quindi appunto dovrete uscire dalla attività Adesso quello che succederà sarà che vi ritroverete sopra il tetto dell'autoraduno senza il vostro personaggio Potrete solamente muovere la visuale quindi significa che tecnicamente questo step lo avete fatto correttamente Ora per continuare semplicemente andate nel menu di pausa e appunto il vostro amico ragazzi dovrà aprire la missione del titano Se chiaramente non l'ha già fatto prima quindi vi consiglio di far aprire il titano al vostro amico prima Quello che dovete fare voi a questo punto sarà andare nel menu di pausa poi online giocatori Dovrete andare ragazzi nel vostro amico dovrete cliccare X e come vedete vi darà questo menu centrale Su questo menu centrale andate a cliccare su unisciti a partita quindi ci sarà la schermata di attenzione Voi semplicemente ragazzi confermate e confermate anche l'altro messaggio dove vi dice che la sessione è privata A questo punto signori tornerete sul tetto dell'autoraduno e in teoria sarete buggati Quindi adesso dovrete fare un ultimo step per appunto diciamo concludere il bug per poter ricevere i veicoli in modo massivo Quindi a questo punto semplicemente scendete dalle scale dell'autoraduno mi raccomando ragazzi non morite perché sennò dovete rifare tutto da capo Quindi scendete le scale e andate appunto a terra insomma Quando sarete diciamo sulla strada chiamate il meccanico e a questo punto ragazzi fatevi richiedere un veicolo o dell'officina dell'arena Oppure di un piano del nightclub consigliato il B2 oppure il B3 del nightclub Oppure ragazzi potete appunto utilizzare un veicolo dell'arena possibilmente dell'officina dell'arena Quindi quando il veicolo vi sarà stato consegnato ragazzi semplicemente salite al suo interno e ritornate a questo punto nella proprietà Io in questo caso ho chiamato questa macchina dall'arena quindi ragazzi dovrò appunto tornare all'arena Quindi tornate all'arena se anche voi state utilizzando appunto l'arena e quello che dovrete fare sarà camminare insomma verso il pallino blu E quando il gioco vi chiede che cosa volete fare voi selezionate livello officina Ora come potete vedere dal video a me in questo caso non mi ha dato la schermata buggata Quindi a volte può succedere che appunto fate il primo step in modo corretto ma a questo punto non vi fa la schermata buggata Se neanche a voi vi riesce semplicemente riprovate magari cambiando sessione o appunto riavviando tutto il gioco Quindi ragazzi se non vi funziona e non vi da la schermata buggata semplicemente riprovate da capo fino a questo punto E magari provate invece dell'arena con un veicolo del nightclub B2 Infatti ragazzi qui come potete vedere il glitch mi è riuscito quindi tornate semplicemente ragazzi alla vostra proprietà Rientrate il veicolo dal quale insomma lo avete chiamato Quindi andate a selezionare il piano e una volta fatto ciò se avrete fatto tutto correttamente il gioco vi darà questa schermata buggata Quando vi darà questa schermata semplicemente ragazzi premete il tasto triangolo per uscire dal veicolo Noterete che il personaggio cadrà sotto la mappa per poi ricomparire subito dopo Ecco appena ricomparite subito ragazzi aprite il menu interazione andate su inventario E a questo punto vi servirà avere o l'RC bandito oppure l'RC del caro armato In caso non avete nessuno di questi due veicoli vi potete far invitare nell'appartamento di un vostro amico Quindi dovrete uscire dall'appartamento e se il vostro personaggio lampeggerà Allora vuol dire che sarete glitchati correttamente e a questo punto potete ricevere veicoli in modo massivo Oppure ragazzi utilizzando un RC vi basterà semplicemente premere il tasto triangolo quando sarete nella schermata insomma dell'RC Anche qui se il vostro personaggio andrà a lampeggiare allora sarete glitchati correttamente e a questo punto potrete ricevere veicoli in modo massivo Quindi passiamo alla spiegazione per poter ricevere veicoli in modo massivo Quindi ascoltatemi bene Quello che dovrete fare per prima cosa sarà ovviamente raggiungere il punto di scambi Ormai ragazzi non vi mostro neanche la posizione perché lo sapete Quindi vi mettete faccia al muro come state vedendo nel video Fatto questo aprite il menu interazione andate su servizi centro operativo mobile e richiedete il vostro centro operativo mobile Se richiedete il vostro centro operativo mobile tramite questa posizione che state vedendo nel video Praticamente il vostro com vi verrà spawnato alle spalle sopra questa stradina e appunto ed è quello che vi servirà Quindi una volta che vi sarà stato consegnato il vostro com semplicemente riaprite il menu interazione Andate nuovamente su servizi poi centro operativo mobile e richiedete il veicolo personale dentro il centro operativo mobile Quindi dovrete appunto averci un faggio una LG o comunque un veicolo che volete appunto sacrificare tra virgolette Quindi a questo punto quando il veicolo vi sarà stato consegnato semplicemente salite al suo interno Dite al vostro amico di salire nella macchina con voi Quando il vostro amico sarà salito come state vedendo dal video dovrà praticamente ragazzi aprire il menu di pausa E dovrà restare fermo nel menu di pausa A questo punto quello che dovrete fare voi ovviamente ragazzi i classici step li conoscerete tutti quanti Però lo rispiego velocemente Dovrete praticamente ragazzi andare dietro il vostro centro operativo mobile e premere la freccia destra Quando il gioco appunto vi dà la possibilità di premere freccia destra Quindi premete freccia destra non succederà niente Anzi il vostro amico verrà buttato fuori dal vostro veicolo E a questo punto non dovrà risalire ma dovrà aspettare vicino al pallino blu diciamo per entrare nel centro operativo mobile Ora quello che dovete fare voi per continuare sarà diciamo allontanare il veicolo dal pallino blu Perché sennò si bagga Quindi allontanate il veicolo Scendete dal veicolo E fatto questo ragazzi dovrete fare il trick di Franklin Quindi la selezione del personaggio Come si fa? E' davvero molto semplice Tenete premuta freccia in giù E con l'analogico destro Alzate verso l'alto Oppure a destra o a sinistra Per selezionare uno dei personaggi della storia Quindi rilasciate la crocetta Come anche l'analogico E il gioco vi darà questa schermata di attenzione dove vi chiede se volete uscire Quindi ragazzi fate questo passaggio due o tre volte giusto per sicurezza Una volta fatto questo passaggio Tutto quello che vi resta da fare sarà prendere il veicolo dal vostro amico Quindi una volta aver fatto questo passaggio Semplicemente camminate sopra il cerchio blu Una volta fatto ciò il gioco vi chiede che cosa volete fare Ora su questa schermata semplicemente andate a cliccare X su entra da solo Quindi ci sarà ragazzi a questo punto una schermata nera di caricamento infinito possiamo dire Quello che dovrete fare in questa schermata nera sarà aspettare circa 5-6 secondi Dipende comunque dalla vostra connessione E una volta fatto ciò rifate nuovamente il trick di Franklin Quindi da questa schermata nuovamente selezione del personaggio Rilasciate la crocetta come anche l'analogico E appunto il gioco vi darà questo messaggio di attenzione Quindi a questo punto rifiutate Sarete ragazzi invisibili Vi consiglio di fare nuovamente la selezione personaggio un paio di volte Quindi rifiutate E una volta fatto ciò ragazzi tutto quello che vi resterà da fare Sarà entrare nel veicolo del vostro amico Come vedrete sarete al 100% invisibili e buggati Quindi questo vi permetterà di prendere il veicolo dal vostro amico Quindi entrate nel veicolo e una volta fatto ciò Boom! Come potete vedere verrete teletrasportati automaticamente ragazzi Nel vostro centro operativo mobile E quindi a questo punto avrete ottenuto gratuitamente il veicolo dal vostro amico Ora ragazzi vi faccio vedere una cosa Praticamente vi può succedere che prendendo il veicolo E uscendo dal centro operativo Vi fa questa diciamo questa cosa che vi butta fuori dal veicolo Se vi butta fuori vi dico adesso come risolvere Semplicemente aprite il menu interazione Andate su veicoli e riportate il veicolo al deposito Una volta fatto questo andate nuovamente nel menu interazione Andate su servizi centro operativo mobile E richiedete il veicolo personale nel centro operativo mobile E a questo punto appunto ragazzi il veicolo sarà sbuggato Quindi ci potrete salire sopra e appunto lo potrete utilizzare A questo punto signori vi spiego come poter fare la sostituzione Per poter ricevere altri veicoli Quindi ragazzi ve lo spiego a voce E poi appunto vi lascio la clip in sottofondo Per vedere come fare la sostituzione Sostanzialmente quello che dovrete fare adesso Sarà richiedere un altro veicolo da sacrificare Se avete dei Sanchez li potete chiamare tramite il menu del presidente Quindi una volta fatto questo dovrete nuovamente Rifare lo stesso passaggio che avrete fatto adesso Quindi chiamate il veicolo Intanto il vostro amico chiama un altro veicolo che vi vuole passare Lo mette al punto diciamo del drop Ok? E una volta fatto questo voi appunto dovrete richiedere questo veicolo da sacrificare Quando vi sarà stato consegnato Nuovamente salite al suo interno Fate salire il vostro amico con voi Il vostro amico va nel menu di pausa E resta fermo Ora quello che dovrete fare sarà guidare dietro il centro operativo mobile Quando il gioco vi da la possibilità di premere freccia destra Per lasciare il veicolo Voi ragazzi premete freccia destra Il gioco vi darà il messaggio di attenzione Dove vi dice che il deposito veicolo personale è pieno Quindi a questo punto ragazzi confermate Non succederà niente Qualche secondo più tardi il vostro amico scenderà nuovamente dal veicolo E quindi dovrà restare fermo vicino appunto al cerchio blu Del centro operativo mobile Quindi a questo punto allontanate nuovamente il veicolo Scendete dal veicolo Fate la selezione del personaggio della modalità storia Rifiutate con cerchio Fatelo un paio di volte Una volta fatto ciò nuovamente camminate dentro il cerchio blu Quindi quando il gioco vi chiederà che cosa volete fare Voi semplicemente ragazzi selezionate Entra da solo Quindi ci sarà la schermata nera Aspettate circa 5-6 secondi Una volta fatto questo In questa schermata nera Nuovamente fate la selezione del personaggio Quindi se avrete fatto tutto correttamente Il gioco vi darà la schermata Che vi chiede se volete uscire Quindi voi ragazzi semplicemente rifiutate E a questo punto sarete nuovamente invisibili Quindi correte verso il veicolo del vostro amico E una volta fatto ciò avrete preso il veicolo Ricordatevi che dal momento che appunto vi andrete a buggare E andrete a ricevere il primo veicolo Per continuare dovete fare per forza la sostituzione Se non fate la sostituzione Non potrete continuare a ricevere altri veicoli Dal momento che appunto avete richiesto la vostra RC E il personaggio lampeggia quando sarete usciti Potrete appunto ragazzi ricevere tutti i veicoli che volete Come quando volete Per tutto il tempo che volete Quindi come avete visto è un glitch veramente ragazzi Molto facile Purtroppo la prima parte riesce e non riesce Ragazzi io quello che posso consigliarvi È di trovare il vostro timing Una volta aver trovato il vostro timing Sono sicuro che dopo appunto averlo fatto un paio di volte Sicuramente ragazzi il glitch vi funzionerà Altra cosa che voglio dirvi riguardo il glitch ragazzi Niente quello che dovete fare per ricevere altri veicoli È appunto quello che vi ho detto poco fa Con la differenza che dovrete semplicemente ragazzi Confermare il messaggio che appunto vi dice Che il deposito veicolo personale del centro operativo è pieno Per ricevere altri veicoli cambia solamente Che dovrete confermare questo messaggio di attenzione Una volta fatto ciò il procedimento è appunto uguale identico Per continuare a ricevere i veicoli In questo modo potrete ragazzi appunto ricevere tutti i veicoli Moddati o non che sia Come quando volete per tutto il tempo che volete Detto questo signori niente Questo video si conclude qua Io spero abbiate apprezzato Se così è stato mi raccomando signori Pollicione in sub bomba che a me fa veramente tanto piacere Mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti Ci vediamo ragazzi più tardi con un nuovo video Come anche in live Mi raccomando signori non mancate Oggi maratona di video come anche domani Non vi rubo altro tempo Vi ricordo tutti i socials in descrizione Seguitemi anche su tiktok Dove appunto anche lì ogni tanto posto delle cose E niente Che altro vi posso dire Se vi servono account moddati Trovate il link del sito nella descrizione E niente signori Io vi auguro ancora una buona vigilia di Natale 2021 A tutti E da Crix è tutto Io vi saluto e vi ringrazio Noi ci si becca come al solito Con un prossimo video Prossima live O un prossimo glitch Bellavattio Noi ci si becca come al solito Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti